Sì, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella Tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti, ha una speranza viva per un'eredità che non si corrompe e non marcise. Ascolta la preghiera che te rivolgiamo per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della Tua misericordia e riceveli nell'Assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti ci vedrà vittoria pasquale del Tuo Figlio. Tu, che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso alla Beata Vergine Maria, per Sua intercessione sostieni la nostra fede perché nessun ostacolo ci faccia deviare della strada.